Grazie a tutti. E Daniele Mazza, benissimo. Che fate parte del gruppo? I giamberiani. I giamberiani. Hanno animato in maniera straordinaria un cinquantesimo compleanno. Li abbiamo visti, li abbiamo notati e ci hanno fatto sentire quello che loro diciamo fanno in giro per la Calabria e ci faranno sentire e spiegare soprattutto gli strumenti che loro utilizzano, che sono strumenti tradizionali, non convenzionali, e addirittura uno che poi vedrete nelle immagini è costruito artigianalmente utilizzando, come posso dire, del materiale idraulico. Di riciclo. Di riciclo, ok. Iniziamo con te, ci fai vedere che strumento è? Questo è il chitarino battente. Il chitarino battente. Come si suona? C'è una storia per caso? E se vuole Daniele è più bravo a raccontare la storia. Ah, Daniele? Ok. Allora, Andrea dice che è così, in realtà andrebbe valutato. Comunque, questi due strumenti che avete appena, diciamo, visto, sono le chitarre battenti. In Calabria ci stanno tanti tipi di chitarra battente, però, essendo che noi siamo stati un po' colonizzati da tutti, ognuno ci ha lasciato qualcosa, abbiamo diverse forme e qualità di chitarra battente. Questa qui arriva dalla chitarra barocca, potete notare il fondo bombato. È stata costruita per il bisignano, perché in Calabria abbiamo una grande scuola di maestri liutai, ed è uno strumento che serve principalmente per accompagnare il canto popolare. Quindi Andrea adesso lo farà ascoltare e vi dirà un pochettino anche sulla tecnica. Ecco, allora adesso passiamo a Daniele. Ok. In particolare l'ho utilizzata dalle parti di Crotone e Cosenza, rossano, molto coreano, proprio lo strumento principale, e viene utilizzato da quelle parti anche per il ballo. In particolare la tecnica, perché si chiama battente, perché si batte, c'è una sollecitazione sul pieno armonico. Grazie. Grazie. Allora, innanzitutto io vorrei chiedervi come nasce questa vostra avventura di comunque riproporre degli strumenti tradizionali e dove nascete voi, insomma, come gruppo, come persone che girano. Le nostre storie sono diverse, ma poi ci siamo uniti. Io praticamente avevo già mio padre, che era un appassionato di musica e tradizioni popolari. Sono nato tra chitarra battente e libri che parlavano di questa cultura. E poi gli strumenti sono stati in primo momento i miei giochi. Poi crescendo ho iniziato a imbattermi anche io nella ricerca e quindi andare tra gli anziani a documentare quelle che sono le storie, le tradizioni e i canti. Anche perché girando noi scopriamo che da paese in paese come cambia la lingua, che è la cosa che noi percepiamo al primo momento. Cambia anche il modo di cantare, di suonare, di ballare e cambiano anche gli strumenti. Tra l'altro noi pubblicheremo degli altri video di questa giornata dove loro spiegano, ad esempio, i veri tipi di flauto, i veri tipi di strumentazioni. Poi se andrete a vedere le rispettive pagine Facebook di Andrea Bressi e di Daniele Mazza, oltre che c'è la pagina ufficiale che è... I giamberiani e i suoni tradizionali calabresi. Vi si può trovare tranquillamente su Facebook, vedrete sicuramente quello che loro fanno e soprattutto dove si esibiscono. E se avete bisogno delle loro, diciamo, performance potete sicuramente contattarli per qualunque, diciamo, esigenza. Vicino a me, allora, adesso c'è Daniele Mazza che invece ci va a vedere un altro strumento. E questa cos'è? La lira calabrese? Questa si chiama lira calabrese. La lira si trova in mezzo mediterraneo e anche in Calabria abbiamo una versione di lira calabrese. Lo strumento è arrivato qua circa mille anni fa, c'è chi dice che è arrivato coi bizantini, chi coi greci. Comunque questo strumento si è mantenuto con delle forme e dei modi di essere utilizzata, quindi suonata, pressoché invariati nell'arco di mille anni. Si utilizzava principalmente sulla fascia grecanica della Calabria, quindi la parte più a sud. Si stava per perdere negli anni 80, ma grazie ad alcuni ricercatori e grazie comunque adesso a questa moda della musica popolare, adesso anche tanti giovani la suonano. E adesso, se vi fa piacere, ve la facciamo ascoltare. Assolutamente sì, ascoltiamolo. C'è da dire che questa è stata costruita da Daniele, che già da piccolino è andato dal maestro, ha preso l'arte della lotteria, quindi è la costruzione di questi strumenti. Quindi chi volesse costruire una lira a mano fatta da Daniele, rivolgendosi e ovviamente pagando si può praticamente... Ok, perfetto. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Perfetto, l'applauso ve l'hanno fatto più volte Diciamo durante l'esibizione che avete fatto qui all'interno del canalicchio Io a questo punto so che voi dovete scappare perché avete già un'altra esibizione da fare Io ringrazio, ripeto, Andrea Bressi da questa parte e Daniele Mazza dall'altra Ripetiamo il gruppo, soprattutto dove trovarvi Perché, ripeto, c'è la possibilità di chiedere il vostro performance, quello che voi fate E siete itineranti per la Calabria, giusto? Sì, generiamo un pochino tutta la Calabria in varie formazioni Sia da palco, quindi in quartetto E riusciamo a ben gestire, come hai anche visto tu, le situazioni in duo Che abbiamo una bella forza Fate cabaret, si può dire, possiamo dare anche dirlo Perché comunque voi animate, non suonate soltanto Fate, diciamo, attività proprio di animazione Di contesti sociali Di conseguenza, chi volesse trovare su Facebook Riperdiamo Andrea Bressi da questa parte Daniele Mazza dall'altra parte Ma il gruppo in sé da cercare è I Giamberiani Benissimo Liberi Tiburi, Riccardo Cristiano, Noce Raterinese e il Canalicchio Grazie ancora e soprattutto ascoltateli e cercateli Grazie a voi, un saluto a tutti Ciao Grazie a tutti